Bella rega oggi siamo su internet giochiamo tuttora no single player andiamo 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 perché sono così basso no perché sono così basso che perché sono così basso che cos'è perché sono alto come una formica ah c'è un'abilitazione praticamente questo gioco qua tipo minecraft un po' modificato anche se non capisco perché sono alto quanto una formica ma c'è un'abilitazione perché è così lento sto personaggio fa come minecraft salto no comunque guarda è tipo minecraft però con delle nuove cose ad esempio guardate la c'è la maniera del canada la c'è il porto diciamo solo che se va così piano io sclero devo cliccare con il testo particolare perché io sono così brutto perché perché sono un poco perché è alto come una formica guardate che cos'è stas cosa ok basta è troppo brutto dai perché va così piano minecraft più veloce personaggio no che figata guardate guardate c'è una casetta ma c'è una bandiera ma perché non c'è nessun animale dai che è triste guarda c'è una strada e non passa nessuno insieme a quelle strade nel film horror non passa nessuno poi arriva uno e ti mazza ok brutta storia vediamo se in questa casa c'è qualcuno che cosa è quello lì oh cristo oh mio dio mio dio mio dio mio dio spavento no stai fermo stai fermo stai fermo stai fermo stai fermo no no brutta persona oh mio dio che spavento non aspettavo che voglio essere cosa quello una macchina si può usare la macchina no ma come si fa a recuperare la vita slender man è meno pauroso no ma comunque sono troppo inquietanti che cosa lì cos'è quella cosa una lapide no 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 ecco perché non c'è nessuno perché sono tutti degli zombie che bello che bella la vita in questo gioco però c'è la macchina come posso andare a prendere la macchina faccio un run no 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 io lo so che tu mi vuoi picchiare e io non ci vado infatti guarda guarda di quanto cavolo è inquietante per quello che prende il sole oh cristo mio nonno aiuto perché non corri ma quello lì ha la zappa ma quello lì ha la zappa ma non lo so andiamo da quest'animale qua che di sicuro sarà meno di lui di sicuro non scappare no non scappare fermo 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 no io ti voglio bene no non scappare dai bambi non scappare non ti voglio bene ma non è vero mamma mia quando se non scappare voglio vedere cosa c'è in quel porto lì comunque quei contadini non erano per niente gentili cioè io gli darei la multa solo perché io gli sequestrei la macchina la casa soprattutto il grano perché il grano cioè se non sequesti il grano figa non sa nessuno cioè ma tipo The Walking Dead madonna ci sono soltanto gli zombie e quello cos'è perché ha messo pecorello ok ho sentito il rumore eh amico perché si è messo pecorello no 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 questo gioco non fa come si recupera la vita è inquietantissimo sto gioco guarda lui si vede il culo guarda 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 tipo pip no ti volevo toccare il culo no 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 non ti posso toccare il culo no 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 tu non io pensavo che ero una bella gnocca vuolvi vole guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava ah ok tu sei fatto perché gli ho fatto un complimenti della bella ragazza allora si ok si emozionato al mio affetto come parlare ad uno zombie tutorial completo solo per voi e vabbè ehi tu moratore perché ci sono soltanto gli zombie qui ma se tipo io me ne andassi no perché questo posto qua vedo che è molto bello e ci ho fatto una bella visita e soprattutto lui lui proprio quello lì è messo pecorella esatto no 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 ho detto che mi sei simpatico basta 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 amico amico ti sto simpatico vero ehi guarda ok basta ma che cosa sto ah ma è l'erba ma dai ma quando cammino io che pensavo che era uno che mi stavano seguendo mi voleva aprire la galleria no adesso devo stare va e andiamo ma questo qua sa notare nuota amico mio nuota chiaro che la grafica di questo gioco qua è veramente impressionante no 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 vero tu sei bravo perché sono venuto qui qua ci sono tutti i mostri sono tutti cattivi io me ne vado non ci volevo neanche venire qua ma si può salire in quella torre lì sì vero ma come faccio ad uccidere quello zombie senza norma senza niente ti devo prendere a puni vogliamo fare botte facciamo botte e zoom vieni qua facciamo botte facciamo botte perché sta vomitando perché sta vomitando e perché lui prende fuoco ehi ehi svegliati no si è svegliato svegliati no 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 io non volevo io volevo segnare la mano e basta va bene comunque ragazzi per questo video è tutto bello